Dal matrimonio di Fabrizio Micari all'aspirante deputato che ha cambiato sesso e poi Frank Antonio Genovese che candida il figlio, la scelta di Armao di non inserire il suo nome in lista, l'esclusione di Crocetta dalla corsa all'Ars per finire con gli impresentabili. Polemiche, colpi di scena, colpi bassi, scelte personali che hanno finito col diventare protagonista di questa campagna elettorale infuocata che porterà il prossimo 5 novembre i siciliani a scegliere il successore di Rosario Crocetta a Palazzo d'Orleans e i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il caso più recente risale alle nozze del candidato presidente del centrosinistra. Fabrizio Micari un paio di giorni fa con un posto e una foto pubblicata sui social aveva annunciato l'imminente per lunedì prossimo matrimonio. Ieri l'uscita del deputato regionale Vincenzo Figuccia, ex Forza Italia, ora Udc, è candidato con la lista civica Sicilia Vera per Musumeci presidente che ironizzava sul matrimonio di Micari. Intervento che ha scatenato le polemiche. Non si è mai visto, scriveva Figuccia nella sua nota, che un candidato alla più alta carica di una regione si occupi pure del suo matrimonio mentre c'è la campagna elettorale. Micari ha fatto la scelta giusta sposandosi. Ha ben capito che almeno una certezza l'avrà. I fiori d'arancio non gli mancheranno a novembre, però il centrodestra, già nei prossimi giorni, con la sconfitta elettorale, potrà celebrare il De Profundis dell'Alleanza. In quel caso i fiori saranno altri. Da qui la solidarietà di Claudio Fava, di esponenti del Partito Democratico, ma anche di Giovanni Lavia, vice designato di Micari e del coordinatore nazionale dei centristi per Europa, Giampiero D'Alia. Altri due episodi, stavolta esclusivamente politici, hanno reso l'area pesantissima, sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. Da una parte, l'esclusione di Gaetano Armao, designato come vice di Musumeci alla Regione, che non viene inserito nel listino del Presidente. Una scelta che ha portato l'avvocato palermitano a non candidarsi con nessuno, non ritirando però il suo appoggio al leader della coalizione. Dall'altra parte, la parte opposta, Rosario Crocetta, anche lui escluso dalle regionali, che così aveva commentato, amareggiato. Rispetto alla legge e alle sentenze, mi farò una ragione di questa esclusione, risparmierò i soldi della campagna elettorale. Ero candidato nell'interesse della coalizione, se qualcuno ha sbagliato se ne assumerà la responsabilità, aveva detto Crocetta.